16 giugno, notizie per una nuova Milano. Oggi secondo me la cosa più interessante sono tre spunti che vengono forniti da azioni o parole fornite da tre personaggi molto importanti per la Milano di oggi e la Milano di ieri. Però prima di questo vediamo i giornali. Allora, il Corriere, a parte un richiamo in prima pagina che trovo abbastanza infelice, titola il Corriere in Lombardia l'85% dei positivi, che è una notizia non corretta, nel senso che in realtà sono fra tutti i positivi in Italia che stanno calando, l'85% sono della Lombardia, che a ben vedere poi in realtà è perché in Lombardia oggi si stanno facendo molti più, finalmente, molti più tamponi che in passato. Anche la Repubblica apre con questo tema, dice sostanzialmente il titolo è i 5.000 ancora malati di Covid, intrappolati in casa o nell'RSA, che a vedere l'aspetto negativo è che ci sono ancora 5.000 persone che quindi sono ancora malate. Poi se si guarda, per fortuna abbiamo dei dati dettagliati sulle origini dei nuovi contagi e si vede che ci sono soltanto 874 pazienti con i sintomi, pensando che solo fino a un mese e mezzo fa erano decine di migliaia i positivi nella nostra regione, si vede che la notizia non è per niente male, infatti si citano gli epidemiologi che dicono che siamo alla coda dell'epidemia. E tra l'altro devo dire, una notizia, noi come Milano Città-Stato siamo stati spesso abbastanza duri nelle settimane scorse, fin dall'inizio un po' con la gestione della regione Lombardia su questo tema, però bisogna dire che ultimamente stanno facendo delle cose sensate e è apprezzabile tra l'altro, adesso la trasparenza con cui danno le informazioni in tempo reale proprio sui contagiati insieme ai dati dicono dove stanno emergendo questi contagiati e gli ultimi dati dicono sostanzialmente che i contagiati che di oggi si riferiscono o a persone che hanno fatto il test sierologico, ne stiamo facendo a migliaia, che risultano positivi a quelle, una piccolissima parte risultano che sono ancora positivi al Covid e quindi si tratta di persone che presumibilmente sono già in via di guarigione, oppure si riferiscono a contagi maturati ancora nel lockdown per contatti intrafamiliari. Diciamo che tutti i dati che ci sono, che stanno emergendo, per fortuna stanno evidenziando come probabilmente ne stiamo uscendo. Nonostante questo però c'è questo clima che per varie ragioni, non solo del Covid, si sta sempre più alimentando sul fatto del Milano o Lombardia soggetti pericolosi. Sui social stanno rilanciando di milanesi che addirittura dopo che hanno dichiarato, dopo che avevano prenotato, ad esempio in Puglia, dopo aver dato la caparra, gli è stato chiesto di dove sono e quando hanno detto che sono di Milano gli è stata ritornati indietro la caparra. Ci sono diversi casi di questo tipo ed è in dubbio che si sta alimentando un odio anti-Lombardo. Sulla base di questo vediamo che cosa si può fare. Allora, a proposito sempre di questo odio, c'è un'intervista interessantissima pubblicata sulla Fington Post, di Luca Doninelli, che in passato tra l'altro è stato molto duro nei confronti di Milano, uno scrittore, però adesso ha cambiato un po' il registro, nel senso che si è accorto innanzitutto lui è di Leno, del Bresciano, però si definisce milanese d'adozione, che poi dice che è vero, la caratteristica di Milano è che tutti i veri milanesi sono milanesi d'adozione, da Sant'Ambrogio, che come sapete era originario di Trier, quindi della Germania, di Treviri, a Leonardo da Vinci, passando per napoletani, toscani, valdostani, nigeriani, asiatici, ucraini, egiziani, che milanesi sono diventati. Che questa è la vera forza di Milano, e dice che proprio questa è la grande caratteristica di Milano, perché mentre le altre città, dice, sono città dove tu sei solo se sei di generazione di quella città, Milano è proprio l'opposto, cioè è una città dove lo puoi diventare milanese, anzi è proprio la caratteristica di Milano. E poi va giù abbastanza duro, perché dice Doninelli che innanzitutto l'Italia è un paese che non si è mai veramente unito, e in questa incapacità di unirsi c'è proprio una caratteristica di Milano e Lombardia che, a differenza di altri territori dell'Italia, sono rimaste attaccate al cuore dell'Europa. Di qui una diversità, scrive, anzi dice Doninelli nell'intervista, una diversità che genera ammirazione e risentimento, desiderio e repulsione. Il problema è che la pandemia ha acuito i sentimenti negativi, confluiti in una pulsione antilombarda, mentre in altri momenti nella storia nazionale è prevarsa la voglia di emulazione. Cioè, quindi questo è il tema di Luca Doninelli, che il problema che dice, che significa questo gli viene chiesto, e lui dice che Milano e Lombardia possono avere la sensazione di essere altro dal resto del paese, e da qui dice che sostanzialmente il grave rischio, ci sono due rischi. Uno è che effettivamente questa voglia di mettere le mani su Milano, che dice Doninelli, che hanno detto anche De Bortoli e altri, diventi il fatto che l'Italia, con tutti i suoi difetti, soprattutto come apparato amministrativo, finisca col togliere quell'allure, quello slancio vitale che è la grande forza di Milano. L'altro pericolo è il suo opposto, cioè che Milano e la Lombardia dicano non ci riconosciamo più in questo tipo di Stato che in più ci sta prendendo schiaffi, ancor più dopo un problema gravissimo che abbiamo ricevuto, e quindi questo possa determinare che, caro Stato, noi preferiamo essere più Europa, cioè alimentare un desiderio, lui cita, di secessione, che poi era, senza andare troppo lontano, la prima Lega faceva leva su questo aspetto, più per ragioni economiche, ma in questo caso dice Doninelli, attenzione al resto d'Italia, perché se ci continui a prendere schiaffi, proprio in nome della nostra diversità, tu potresti alimentare il desiderio di questa diversità di staccarsi, che è un po' quello che sta succedendo, diciamo, nel punto di vista culturale, io personalmente l'ho vissuto a Berlino, dove è successa una cosa simile tra berlinesi dell'Ovest e berlinesi dell'Est, che i berlinesi dell'Ovest in quel caso erano però quelli più, diciamo, più facoltosi, che ha iniziato a trattare molto male quelli dell'Est con sufficienza, spirito di superiorità e così si è alimentata la cosiddetta hostalgy, cioè il desiderio di separazione in qualche modo. Per loro fortuna era all'interno di un sistema che funziona e che in qualche modo è intervenuto attraverso la responsabilizzazione dei territori dell'Est, è arrivato a portare una maggiore, alimentando anche sulla diversità questo aspetto, è riuscita ad evitare che questo degenerasse in una voglia effettiva di separazione. In Italia questo non sta accadendo. Però, quindi, Doninelli dice questo, cioè un altro personaggio che è molto attivo sulla scena milanese, che sta facendo le cose di grande valore, viene oggi molto portato agli onori delle cronache, sia su Repubblica che su Milano, che sul Corriere, dedicano una pagina entrambi a Andrè Ruth Ciamma, che è un po' la figura di riferimento della nuova cultura, della cultura della città milanese e che illustra il nuovo, la riapertura del teatro Parenti, che è collegato a questo gioiellino, ai bagni misteriosi, e quindi giovedì riapre con questa iniziativa, questa opera che si intitola stasera, si riapre, e poi prossimamente, con un sacco di altre iniziative, ci sarà anche un canto per Milano. Diciamo che Ciamma, il suo credo, il suo mantra, è quello proprio dell'unione, e questa è l'altra ricetta, cioè quindi la prima ricetta è un po' quella di Doninelli, che dice, qua potrebbe esserci una ricetta antipatica, quello dello staccarsi, oppure del reprimersi, Ciamma dice, uniamoci tutti i milanesi, di ogni parte, eccetera, ritroviamo nella cultura uno spirito di corpo, che è la grande caratteristica di Milano, proprio perché Milano non è divisiva in quanto divide tra chi sono milanesi e chi non sono milanesi, una cosa che faticano a capire nel resto d'Italia, ma è molto aperta proprio per questo, perché tu puoi diventare milanese un secondo dopo che arrivi in questa città. Basta condividere una mentalità abbastanza semplice, che è quella del darsi da fare senza ricare danno agli altri. Infine, l'ultimo pezzo, diciamo che è un po' uno dei padri storici della nostra città, che viene citato dal nostro sindaco. Come sapete, Sala ogni giorno fa questi annunci, questo stato della nazione applicata su Milano e ieri ha giustamente ricordato l'anniversario di un grandissimo della storia di Milano, che è Carlo Cattaneo, un eroe delle cinque giornate, che era nato nel, se non ricordo male, 15 giugno 1801 e che, devo dire, Sala, grande onore il fatto di averlo citato e menzionato, lo riporta come grande federalista, però è curioso come il nostro sindaco in certe cose a volte toglie un piccolo aspetto, soprattutto quando c'è un segmento che può mettersi in contraddizione col sistema Italia. Se vedete il filmato di ieri di Beppe Sale è interessante, è intrigante perché parla brevemente la biografia di Cattaneo e sul, che sostanzialmente si conclude sulle cinque giornate e dice dopo le cinque giornate si è trasferito in Svizzera dove è morto. Peccato che tra le cinque giornate e la morte di Cattaneo ci sono oltre vent'anni, vent'anni dove non è rimasto in pantofole, ma anzi probabilmente ha fatto la sua azione più forte. Addirittura dopo l'unità d'Italia, pensate che Cattaneo è stato più volte eletto nel Parlamento nazionale, ma si è sempre rifiutato di andare a Roma. Perché si è rifiutato di andare a Roma? In primis perché era super repubblicano e quindi ha detto io non andrò mai a inginocchiarmi davanti al re. Ma soprattutto lui era molto critico, prima è stato critico ai confronti del Piemonte, a suo dire era uno stato, secondo lui, inferiore rispetto a quello lombardo, o meglio lombardo-veneto, e soprattutto secondo lui è stato scorretto perché il Piemonte aveva tradito a più riprese l'ideale indipendentista e unitario che ha sempre manifestato Milano con la Lombardia. Però soprattutto la grande critica era che secondo lui lo stato italiano aveva sbagliato in modo radicale e illiberale scegliendo un sistema amministrativo che era antistorico per l'Italia, che era quello centralista. Sulla base di questo lui si è sempre rifiutato, è rimasto in esilo in Svizzera e ha passato vent'anni, no non vent'anni perché fino al 60 contro Piemonte, dopo il 60 contro lo stato italiano, però a ripetere quello che era il suo mantra, che è quello del federalismo. Per il federalismo, perché non è stato citato qui dal sindaco, quindi vorrei completare, cioè voi guardate il video perché fino a un tot è assolutamente esaustivo, però ha perso qualche pezzo, che è il pezzo più federale autonomista di Carlo Cattaneo. Innanzitutto per lui il federalismo coincide con la libertà, cioè il principio di Cattaneo è molto semplice, dice che federalismo significa consentire a un popolo di autogovernarsi. Se tu non hai il federalismo significa che fai in modo che questo popolo deleghi la sua libertà ad altri popoli. E questo se ci vediamo adesso in la cronaca di quello che è successo con la Covid è quello che è successo a Milano. Milano, quando noi diciamo dovrebbe autogestirsi come una città-stato, è che così potrebbe gestire i suoi territori, esattamente come ad esempio Zai ha fatto in Veneto, con una modalità diversa rispetto ad altri. In questo caso tutto quello che è successo con il Covid, nel bene poco e nel male tantissimo, è successo di peso da scelte della Lombardia, come regione Lombardia che è qualcosa di differente rispetto alla regione urbana di Milano e poi lo Stato italiano. Quindi il popolo milanese non ha, dal sindaco in giù, non ha avuto nessuna possibilità di gestire la propria libertà sul proprio territorio. Però la cosa interessante di Cattaneo che pochi citano, quindi lui dice che sostanzialmente il modello ottimale anche per la storia del Sacro Romano Impero è di una confederazione di territori sul tipo di quello svizzero, per cui ci sono città-cantone, dei cantoni che sono la base del governo, non come dello Stato, non come l'Italia che sono una derivazione dei poteri dello Stato. Lì è lo Stato centrale che è una derivazione dei poteri che non vengono gestiti dai cantoni e dai comuni. Non è solo storico come principio, ma proprio di un tipo filosofico. Secondo Cattaneo il centro di tutto in realtà non è Milano, come ad esempio ha citato il sindaco, o meglio la città, ma è l'intelligenza. Cioè Cattaneo era il teorico del fatto che la ricchezza del mondo, dell'umanità, è data dalle cosiddette rete di intelligenze. Cioè lui diceva che la società alla fine prospera perché è un federalismo dell'intelligenza umana e questo federalismo significa che un'intelligenza umana, nonostante che sia per lui il caposaldo di tutto, si deve mettere in rete ed è grazie allo scambio con le altre intelligenze che si determina lo sviluppo della conoscenza e della saggezza per la persona e per la società. E questo, sulla base di questo, dice che il federalismo è il modello migliore, perché il federalismo è basato sì sull'autonomia dei territori, ma grazie al fatto che tu alimenti la tua autonomia, la tua libertà e le tue doti distintive, a questo punto puoi federarti con gli altri e aumentare gli scambi ognuno con la sua identità in modo da far crescere la civiltà. Concludo con la frase del giorno che a questo punto, visto che ho citato Cattaneo, uso una sua frase che dice che la libertà è una pianta dalle molte radici e nessuna di queste radici va tagliate se no la pianta muore.